Policastro Bussendino mi trovo qui in occasione della Notte Bianca. In mezzo di continuità, perché era un vuoto, l'abbiamo riempito con la Notte Bianca, c'era anche la manifestazione del saggio al porto, quindi la festa continua, aspettando l'appuntamento di domani sera, importantissimo, con Lucchè. Credo e sicuramente ci sarà tantissima, tantissima gente, quindi colgo l'occasione di invitare tutti perché sarà una grandissima manifestazione come quella di ieri sera con Giussi Ferreri. Quindi questo territorio avanza, ha bisogno di pubblicità, ha bisogno di farsi conoscere perché è una terra meravigliosa per far sì che possiamo crescere, creare lavoro, occupazione perché i nostri figli non devono emigrare. Questo è l'obiettivo da parte dell'amministrazione, questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti per dare un riscatto al sud che da secolo è mortificato. Quindi si inizia da piccoli passi, questa realtà, questo paese sta crescendo, noi siamo orgogliosi e voglio ringraziare tutti quelli che ci aiutano quotidianamente a far sì che questo progetto si realizzi. L'amministrazione va potenziata, è una manifestazione importante di promozione anche dei prodotti perché è fondamentale per lo sviluppo. Quindi l'amministrazione il prossimo anno si impegnerà perché questa giornata, la Notte Bianca, possa realizzarsi e far sì che diventi una manifestazione sempre più importante all'insegna di questa voglia di riscatto del nostro territorio, di far conoscere la nostra meravigliosa terra. Fidati E sorprese non ne avrai Sono quello che vedi Pretese non ho Se davvero mi credi Di cercarmi non smettere no Grazie a tutti